amici di youtube ben trovati a marco liguori ricoverata d'urgenza in ospedale finita senza soldi questa è la drammatica parabola discendente di una delle attrici più belle più famose di tutti i tempi e prima di scoprire di chi si tratta vi ricordo che a 700 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video cari amici di youtube seguite questo video fino alla fine alla fine del video vi sarà proposto un sondaggio voglio parafrasare un vecchio monito che diceva dalle stelle alle stalle questo è ciò che è accaduto alla famosissima attrice ci fa specie soprattutto perché tory spelling e lei la protagonista di questo video è stata una delle attrici più belle più pagate e più popolari soprattutto negli anni 90 ovviamente i più la ricorderanno per aver interpretato donna nel telefilm più bello di tutti i tempi il telefilm cult degli anni 90 probabilmente uno dei ricordi uno degli status symbol di quell'era beverly hills ha fatto la storia ha raccontato le vicende di giovani adolescenti mai prima d'ora un telefilm aveva impattato così tanto nella vita dei giovani e cari amici di youtube soprattutto se avete amato beverly hills scrivete nei commenti qual è il vostro ricordo in merito a quel meraviglioso telefilm veniamo all'attualità come dicevano i queen cari amici di youtube the show must go on l'attualità ci dice che tory spelling 50 anni è stata ricoverata in ospedale nei giorni scorsi ha mostrato una foto con un braccialetto del paziente e ha dichiarato sui social network sono qui da quattro giorni mi mancano tanto i miei cinque figli sia anche detta grata e orgogliosa della forza dei figli definiti resilienti e gentili ma a gettare un'ombra sul suo futuro sarebbe la sua degradata situazione economica per tory spelling infatti è un periodo difficilissimo iniziato con il divorzio da dean macdermott pensate dopo ben 18 anni di matrimonio ma di recente tory spelling è passata dal vivere in una casa a vivere in un campere voci di corridoio confermano e parlano della sua situazione economica davvero disperata il primo gale di marco liguori al di là di tutto auguro una pronta guarigione a tory spelling nei prossimi video vi terrò aggiornati sulle condizioni di salute di una delle attrici più amate degli anni 90 amici di youtube vi ricordo il sondaggio cosa ne pensate di beverly 90 210 scrivete nei commenti il vostro ricordo io vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo che potete seguirmi anche sui canali youtube secondo canale di marco liguori e marco liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti